Ciao a tutti gente, oggi sono in macchina, sto andando a Cervigna a fare la gara, la prima gara dell'Ion Cup, prima di arrivare a Cervigna vado a recuperare Lure in stazione a Torino di Vigotto e poi andremo diretti a Cervigna tra l'altro quel pistola di Lure si è fatto male al gomito, non so perché e come, quindi bisogna vedere se si è messo a posto da solo stanotte se no glielo mettiamo noi a posto con le buone o con le cattive maniere, andiamo a divertirci è arrivato il braccialotto, è arrivato anche Lure, farà da navigatore e adesso andiamo a Cervigna Bene gente, siamo arrivati a Cervigna e guardate il panorama che figata che è che roba, abbiamo già trovato il colpo per dormire, quindi adesso andiamo a sistemare la roba mangiamo probabilmente e andiamo a provare le prove via tutto ok? è perché mi sono emozionato sei su YouTube? ti sei meritato un botticino lubrificante catena no, veramente, grande allora cado di nuovo non troppo ciao ciao qua hanno messo la banana di Super Mario per farci scivolare buco cosa? punticello proprio su e giù ragazzi minchia se sbaglia la città finisce sulla nuova si qua fai una compressione che ce la vai ragazzi mi fate un impennato qualunque cosa vi regalo lubrificate catena un impennato dove può? bravo che ti metti il casco safety first scappa 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 ma lui è bravo si è sicuro si è sicuro voglio anche la è stata da qualche parte si spiega tutti i prodotti lubrificante quando lo metti poi gli altri li fattano mi raccomando grande grazie grazie a te ciao 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 mi fai un willy o un manual ti regalo una lubrificate catena dell'altri si ok posso fare qualcosa di più bello tipo manual o anche tipo questo vabbè vai mi sa che te lo sei meritato bella buona gara grazie ciao ciao una penna vedi che sei capace quasi più bravo di me si lubrificanti catena lui ti regalo lubrificanti catena va bene fai una penna una penna una penna fa un'impennata dai va bene guardate me la vuoi che la faccia dove vuoi parto da là dai un willy ragazzi a lei daniele due filo grazie grazie va bene lo provo ciao grazie ciao 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 bene gente abbiamo iniziato a salire per andare a fare la prima prova e facciamo la prima e testiamo il gomito di lure speriamo le bici siano a posto andiamo a divertirci sulle che che qui che ragazzi finite le prove devastanti super in forma come nuovo e basta se la torca è un problema ma speriamo di risolverlo come ti sono sopra le piste sono fighe le piste sono fighe però non ho provato la velocità sono tosti domani sarà giorno giorno vero domani si darà tutto tanto il gomito non mi sapeva più bene ragazzi ci si vede bene gente è giorno di gara siamo pronti a partire fa un caldo che non c'è l'ora è già là pronto vediamo come è che è festa oggi è giornata figissima si vede pure la punta del cervino quindi condizioni perfette ok percorso fuori gara chasing lure ecco ora non god cosa suona te vedi che bello che bello si vale yeah comunque tutti con i piedi paralleli no nulla che mi metteva il piede giù allora quasi guida raccontaci com'è la tecnica di questi ragazzi che scendono questi quasi pro tecnica da migliorare adesso vediamo questo qua come fare curve ma c'è mancanza di curve carenza di curve quando diventerò maestro guarda questo non riusci a andare provo delle curve piegala al contrario i piedi rimangono sempre paralleli mai giù questo c'è un po di più però non muove buste ho visto uno scendere con al posto di piegare la bici la bici stava dritta ma la nuova la nuova tecnica di guida non dice così ragazzi che jolly ragazzi scusate se mi fate un bel trick tipo william e manu gli regalano un pescicante caffè figa vediamo se davide davide sale direttamente sul podio grande davide adesso aspettiamo quello che vuoi di un po' di più che si provo dai prova 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 un grandissimo ingaro e allora ok che sono appena passati ha detto davvero il bianco ora siamo ai primi venti e partiamo un minuto l'uno dall'altro vediamo sfrecciare della spirit basta che tu lo metti lo lasci a segrare il bianco numero 538 forzetto davide gente finita la gara divertente purtroppo non l'ho filmata l'ultimo perché ero di fretta non ho messo neanche la maschera figurati quindi covid l'ho preso sicuro e scusate andiamo a venere le prime azioni con il successo comunque divertente ah una caduta purtroppo è andata a rovinare tutto ma vediamo cosa è successo Lura cosa dice? eh io sono caduto anch'io dove è caduto filo e sono uscito di di pista una volta perché il polso non mi ha retto e però è andata bene le parti più brutte le ho fatte tranquillamente sono soddisfatto sono finito in fondo ma sono soddisfatto wow fate un wheelie ah queste sono scarse vabbè quindi niente contenti vediamo che è successo premiazioni ciao fai un wheelie fai un wheelie yeah tieni 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 vedi quante catene è una cera lo metti e gli altri li butti via grazie ci sono più queste ciao se sta in piedi tre va così evitiamo di ammazzarci yeah in mezzo alla gente è ancora più difficile con le bici per farmi giateria a casa e allora ci siamo direi che possiamo iniziare a premiare il campione di quest'oggi ma prima provvederei passando la parola una parte dei prenotamenti e ci hanno utilizzato gli aderi la guardia di finanza che ha fatto i soccorsi sul ben tornati nel podio perché siete stati fantastici bravissimi e velocissimi grandi ragazzi grazie grazie a tutti grazie ai chilometristi grazie a Linus grazie a tutti coloro che hanno partecipato ai marshal a tutti e soprattutto a voi che ci avete ancora arricchito questa giornata partecipate Lorenzo 101 no 100 che si vedi anche io devo essere per qua non ce ne c'è bisogna dire è preoccupante faccio che non so ah qua Filippo Montani grazie a tutti bene gente si è concluso un weekend spettacolare pieno di gare divertimento shred code adesso porca miseria ringrazio Lure per avermi accompagnato per aver fatto la gara nonostante fosse distrutto e per chi ci sarà ci vedremo a Caldirola cercatemi che vi consegnerò altri squirtoli però detto questo spero il video vi sia piaciuto mettete un mi piace commentate condividetelo in giro iscrivetevi al canale ci vediamo a Caldirola ciao gente